La discussione che si è svolta qualche sera fa in Consiglio Comunale ha portato al centro anche la possibilità di conferimento di cittadinanza onoraria a Nadia De Munari e ad altre attività che però vogliamo condividere in primis con la famiglia, perché vuole essere un riconoscimento vivo, condiviso e non un fatto irruente che viene preso a prescindere dal palazzo. La commozione e l'eco dei funerali di Nadia De Munari di ieri continuano a deccheggiare a Schio e in tutta la provincia di Vicenza. Ora si pone il tema di come conservare e valorizzare la preziosa eredità che lascia la martire uccisa in Peru. La violenza perpetrata accomuna in questo periodo anche un altro missionario vicentino. Nel sud Sudan è stato gambizzato Christian Carlassare. Mandanti e circostanze inquietanti e ancora misteriose vanno chiarite. Sia per lui che per Nadia De Munari noi chiediamo chiarezza e giustizia. Christian è una persona molto forte che ha già dichiarato di voler rimanere a portare avanti la sua missione. Anche tutta l'organizzazione che è dedicata a Santa Madre Bacchita di Schio, la nostra santa, è vicina a Christian Carlassare che è proprio nel sud Sudan dove ha le origini proprio la nostra madre Giuseppina. sta svolgendo il proprio lavoro. Quindi la vicinanza ma anche la richiesta che abbiamo espresso l'altro giorno anche alla Farnesina quando siamo andati a recuperare il ferretto di Nadia di richiesta di chiarezza e di giustizia verso questi due atti vergognosi.